ragazzi buongiorno da Anna e Marco e quello lo sappiamo da che rasco siamo qui da qualche giorno però vabbè oggi è domenica e dopo vi facciamo vedere anche una sorpresa perché è venuto a trovarci qualcuno di particolare ma intanto stiamo andando verso il centro fare una passeggiatina perché vabbè andiamo al bar con molta calma come il nostro solito e poi ci dovrebbe essere un mercatino come mercatini del biologico andiamo a scoprirli che rasco natura domenica 13 novembre dopo questo primo girete a che rasco e iniziamo anticiparvi perché abbiamo incontrato queste persone secondo voi perché vi riconoscete chi sono ma vedremo ma guardate qua ma questo qua mi sa che vediamo un po cosa c'è scritto qua pollicino ma questo lo conosciamo mi sa questo è famoso vediamo un po ma è famoso questo mi sembra no Anna pollicino ma guarda l'abbiamo incontrati claudio e lucia ciao a tutti allora claudio siamo finalmente insieme ci siamo trovati vabbè noi ci conoscevamo già in caldo esatto e finalmente ci siamo visti con i camper insieme ci siamo trovati qua a che rasco che è una bellissima cittadina di cui c'è anche oggi c'è anche una bella bel mercato bel mercato del biologico abbiamo fatto un bel giretto e adesso siamo qua in compagnia di pollicino in compagnia di pollicino della mia vita chiamiamola così esatto un po prima abbiamo dato un'occhiata comunque ecco cos'è il lungo un 10 metri 75 più la scheda sono 11 metri praticamente totali 11 metri mi sembra che li dimostra a tutti non chiedetemi l'altezza perché non la so io ho 3 metri 50 3 metri 70 è un camper americano è modificato perché come ho già detto anche le altre interviste il musetto dove ci sono i fanali è stato sostituito ed è il musetto delle delive costralis mentre il dietro l'hanno sostituito l'hanno un po modificato alzando un po le luci in modo che non dino fastidio nel gavone anche poi internamente ci sono state delle modifiche importanti e camper americano modello americano un intruder 352 dove 352 sta per la lunghezza che sono praticamente 10 metri 75 poi come ho detto prima c'è ancora la scaletta che porta 11 metri di ingombro 255 di larghezza che è il massimo che dove un camion in Europa può arrivare sospensioni posteriori sono ad aria davanti no dietro ce l'hai ad aria ad aria se si è dietro sono ad aria e su Obelix invece è il contrario prego su Obelix è il contrario ce l'abbiamo davanti le sospensioni ad aria davanti no qui non ci stavano non sono uscito a metri dietro invece c'è l'aiuto delle sospensioni ad aria che dà una buona stabilità certo è un motore è uno Chevrolet 6005 turbodiesel a otto cilindri a v come ho sempre detto gli piace abbastanza bene perché è un camper che gira sui cinque una media di 5 5,5 con un litro ma si sapeva già prima di acquistarlo chiaramente anche il peso importante quindi ovviamente il consumo di conseguenza chilometri non ne facciamo tantissimi quindi il consumo è abbastanza irrilevante ha molti gavoni nella parte bassa anzi tutto gavonato si può dire così gavonato mettiamo anche i termini dove ripongo le mie cose dove c'è anche l'impianto a gas il generatore gli scarichi e tutto e un gemellato posteriore grazie al cielo e dietro c'è un gavone che purtroppo ha la porta un po' piccola però c'è un gavone che è molto molto lungo perché hanno ricavato un gavone con questa modifica di tre metri di lunghezza su tutta la larghezza è alto nel punto più alto arriva 1,40 praticamente ci stanno 5 o 6 biciclette quindi di spazio di stivaggio ne hai parecchio comunque ma a me va bene perché le biciclette riposte all'interno non sono fuori certo ai forti all'intemperia queste cose qua è tutto riposto internamente sopra ho due pannelli solari da 300 watt l'uno quindi hai un bel po' di autonomia sì l'autonomia è quasi infinita praticamente il gancio traino porta moto ho già detto che un altro anno se riesco voglio comprare il carrellino moto così mi carico la moto e me la porto con me perché tu sei un motociclista anche altre sì mi piace anche andare in moto vedete le luci una volta anticamente erano riposte qua quelle rettangolari normali l'hanno spostato in alto già tanti anni fa in modo da dentro non dare pastidio quando si ripondono le cose e telecamera posteriore ha praticamente tutto qui una chicca come tutti qualche camper americano hanno anche la presa di corrente non la presa di corrente la presa del telefono e dell'antenna anche esterna da questa parte qua che non so cosa potesse servire ce l'ho anche di là la presa del telefono è veramente particolare il telefono a cavo non so cosa potesse servire anche qui doppia luce esterna anche di qua per poter quando uno dei pescatori scarichi e tutto ha la luce di qua si vedono anche le due qui c'è la presa di corrente per caricare sì per attaccarsi a 220 le due truma che è dotata di due trumatic da 4000 una per la zona giorno l'altra per la zona notte qui sotto c'è il boiler il normalissimo boiler a gas a gas qui c'è la porta d'entrata per il guidatore che non la uso mai perché è un po' scomoda e qui è il pollicino e questo è il pollicino nella sua grandezza è un gran bel mezzo e adesso magari se ti va ce lo fai vedere dentro certo certo guardate che belle anche queste tre vetrate che credo diano veramente tanta luce sì dentro è molto luminoso molto molto luminoso danno molta luminosità poi molto particolare perché non si vedono il canta o delle vetrate così ed è nato così esternamente tutte le finestre è nato così è proprio nato dalla fabbrica con le tre finestre così e ti dico a chi lo vede tutti quanti mi dicono che è spettacolare vero? vero? assolutamente bene andiamo a vedere dentro tengo questa perché c'era un po' caldo dentro sì oggi per essere metà novembre direi che decisamente fa caldo guardate la cabina di guida che spettacolo che è che comodità questa è una cosa che sui camper europei adesso non so bene su quelli di fascia molto alta ma comunque difficilmente si trova una comodità sì qua a parte il volante che è stato sostituito perché era quello dello Chevrolet l'hanno provato a mettere uno un po' più piccolo cosa di bello questo camper qui è di brutto che ha poco sterzo però di bello che con un giro sterzi tutto come la macchina perché invece il camper normalmente fa due giri dalla parte per esempio la manovra è un po' più lenta invece questo qui è molto veloce cambio automatico a quattro marce sì questo per chi se lo ricorda è uguale a Obelix in fondo il motore è lo stesso è uguale a Obelix e quindi il cambio è lo stesso comunque un quattro marce automatica dove puoi eventualmente decide la retrocamera hai due drive no? sì che lo ha a tre e un a quattro è giusto? è un a quattro un drive praticamente il secondo drive cioè il primo drive è per quando devi hai il traino ah ok almeno così mi hanno detto che quando devi trainare qualcosa è meglio mettere solo le tre marce ok l'ultimo drive sarebbe l'Overdrive quello con la marce molto molto lunga poi vabbè è stato dotato di tablet fisso in modo da poter avere sempre il navigatore a portata di mano non sul cellulare per gestire anche la musica che ho collegato bluetooth allo stereo quindi è tutto più comodo e pratico poi c'è i comandi della webasto ah ce l'hai direttamente qui sì sì ce l'hai direttamente lì anche perché posso usarlo mentre viaggio quindi se c'è caso freddo schiaccio pulsante lui parte e mi scalda assolutamente tutto l'ambiente essendo che l'uscita è proprio oppla è proprio lì ah ce l'hai da sotto ho capito è sotto non fa proprio neanche tanta strada scalda praticamente ce la fa scaldarti tutto l'ambiente sì sì scalda proprio tutto l'ambiente benissimo poi il sedile girevole vi chiedo scusa purtroppo i sedili sono rovinati ma avevo già l'appuntamento per rifare tutto l'interno sempre chiaro però purtroppo la simipelle si è lasciata un po' andare per rifare ma lo rifaremo piano piano adesso ci farà vedere il resto ma vi assicuro che è uno spettacolo ciao adesso con me lui parla un po' dei camper ciao io e Anna oggi Marco l'abbiamo lasciato dietro la telecamera sì sì allora voi avete parlato delle cose tecniche adesso noi parliamo delle cose utili utili sì delle cose più belle che anche alle donne possono interessare allora qui parte la parte di guida c'è tutta la parte del salotto che è molto ampio c'è un bellissimo divano a L dove ci si può sparapanzare perché vedete c'è proprio che meraviglia è bellissimo è molto comodo poi c'è la zona giorno c'è la zona giorno qua si mangia tranquillamente in quattro che diventa anche un altro letto matrimoniale questo qua ah è perfetto un altro letto si abbassa questo e anche lì mi dicevi è anche là diventa un letto matrimoniale c'è due tre lette matrimoniali perfetto qui invece come vedete c'è la cucina è molto ampia come vedete gli piatti li ho lavati però essendo che questa è casa è casa tua questa io ci vivo come dicevo a Marco e Anna ci vivo qui sopra quindi quello che vedete è la mia vita non è che lo uso 15 giorni all'anno è sempre tutto in ordine tutto a posto tutto pulito perché in tutte le case ci sono i piatti da lavare c'è il nostro pinaccio messo lì quindi dovete avere pazienza dovete capire anche che vivendoci è una casa vissuta vissuta ed è così comunque è comodissimo perché c'è il lavandino doppio c'è un bel ripiano per lavorare che non è da poco in camper c'è la stufa home sweet home bellissimo è come la nostra per fuochi per fuochi sempre che è sufficiente c'è la cappa c'è il microonde qui c'è un super frigo con la cella frigorifero e il frigo normale qui c'è un'arba dentro c'è una dispensa se posso aprirla vado c'è la parte sotto adesso è bloccata per quando si viaggia se no si apre ma che bello c'è tutto qua perfetto tutta la dispensa che ho chiuso e se non me lo dimentico purtroppo la testa e dopo si apre tutto come l'ha successo ora quante volte mi trovo viaggendo capita a tutti cassetti sportellini aperti capita a tutti quindi invece qui c'è la zona notte che con l'armadio bellissimo guarda fai vedere bene che bello con gli specchi questo letto è stato un po' modificato allora quel letto lì era praticamente molto più basso adesso passo io molto più basso e c'erano i corridoi come i letto in autici normali certo il proprietà precedente ha voluto alzare sul letto rendendolo un pelo più scomodo solo da fare certo perché c'è bisogna stare un po' piegati però facendo in quel modo lì io sotto un gavone immenso dove ci stanno le biciclette ci stanno l'aria condizionata tutto con gli strai tavoli cioè c'è un mare di roba veramente sacrificando proprio un po' la facilità di fare il letto però diciamo che con l'abitudine ti sai come mettere in un attimo lo fai tanto siamo giovani no? appunto diciamo che siamo croccanti ormai però diciamo che a parte che io essendo ometto non è che tutte le sole faccio il letto diciamolo chiaro lo lascio anche da fare non è che tanto essendo da solo dico lascio lo chiamolo però diciamo che è molto comodo oltretutto un letto a formato casalingo perché è un 160 per due metri quindi è proprio comodo 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 poi ti dico ho la blu blu sopra che si può aprire le due finestre laterali che si possono aprire quest'anno ho messo il ventilatore qui di fianco lo lasciamo aperto anche tutta la notte si stava benissimo poi in camper la cosa bella è che di notte quando si rinfrescia fuori in camper si vive benissimo non è come le case che quando scaldano i muri buonanotte schiaffi si rinfresca subito poi mi sposto così vi faccio vedere il bagno anche allora il bagno faccio vedere qui c'è una doccia bellissima bella comoda lavandino con i mobiletti c'è c'è uno c'è il finestrino in alto di qua e di qua e il water è di ceramica quindi è una cosa fantastica ci sono veramente tutte le comodità è bellissimo questo bagno hai visto è il sogno di tutti è grande più che altro c'è la doccia molto ampia che è comoda è comodissima perché so che ho tanti camper purtroppo la doccia è sardina si soprattutto per i cicciotti come me è più da sardina invece qui ti muovi bene infatti è bellissimo poi ho anche una riserva d'acqua importante perché comunque vivendoci sopra io ho bisogno di autonomia certo perché non posso ogni due giorni andare a svuotare la cassetta o andare a attaccare la corrente elettrica che non ho più batteria queste cose qua il bc è nautico quindi ha lo scontello sotto comodissimo in certi posti è comodo in altri un po' meno un po' meno però diciamo che per adesso non ho trovato difficoltà di acqua ho una riserva di 400 litri quindi 400 litri come ho già detto mi permettono di vivere bene una settimana a farmi la doccia come a casa cioè non star lì a risicare a risicare chiudi perché chiudi perché chiudi perché faccio la doccia tranquillamente non faccio la doccia lunga un chilometro se no mi dura anche un giorno però diciamo che una settimana dalla domenica al sabato domenica alla domenica ci arrivo bene è importante sì ed è importante io tutte le settimane mi sposto da dove sono che è piazzato vicino al lavoro i miei titolari sono stati gentilissimi che mi hanno lasciato un posto in un loro piazzale che non do fastidio a nessuno non ho vicini ed è molto importante tant'è che tante volte la mattina alzo la radio anche a tutto volume e non ti dice niente non mi dicono niente quindi sono due minuti di cammino dal lavoro quindi è proprio comodissimo o l'area servizi per scaricare l'acqua a 500 metri 600 metri comodissimo comodissimo ho trovato la mia dimensione certo da lì proprio il dare a scaricare non ho problemi è proprio comodo comodo quindi per quello dico dove consumo tanta acqua è lavare i piatti io non so secondo me lavare i piatti è come fare due docce perché cos'è tecnica questa però purtroppo è vero perché uno la lava i piatti o c'è l'interruttore sotto da aprire o chiudo o così però diciamo per me l'importante è l'autonomia elettrica perché devo essere autonomo e idrica con 600 watt di pannelli solari e due batterie da 240 ampere l'una per un totale di 480 io non ho bisogno di collegare alla corrente elettrica praticamente mai mai perché comunque non è che uno sono uno che accende computer queste cose qui quindi sono tranquillo per quelle cose lì sono molto molto ma poi mi dicevi che hai in programma di mettere altri pannelli solari nel prossimo futuro appena riesco a racimolare un po' di soldini una cosina alla volta ecco perché comunque spese se ne tante vorrei mettere ancora un 3 o 4 pannelli sopra ad arrivare a 1.000 a 1.400 watt certo quindi penso di riuscire a caricare la batteria quasi con la luna piena mettiamola così a meno da non avere proprio più problemi poi comunque avessi anche dei problemi ho un generatore a 5 kilowatt che adesso me lo stanno mettendo a posto perché grazie a Marco e Anna che me l'hanno regalato che mi era andato lo sto rimettendo a posto dopo di che lo rimonto lo monterò sotto non so qua sotto pollicino e avrò questa autonomia infinita perché a batteria scarica schiaccio il pulsante e vai quindi c'è un po' di Obelix anche in pollicina anche di Obelix sono fratelli c'è anche un po' di Obelix è un fratellino più piccolo però sì decisamente più piccolo però è un bel generatore comunque quello sia sì il generatore ti salva in molte situazioni perché se tu li vani senza energia attacchi lascia girare mezz'oretta ti carica le batterie hai bisogno della 220 per passare all'aspirapolvere o cosa ce l'hai disponibile non ti devi accoggiare ad aree di servizio o a qualcuno facendo così sono molto più ancora più autonomo ed è quello dove voglio arrivare che è la cosa più importante questa qua senti sediamoci un po' sul salotto così ci racconti un po' della tua scelta di vita certo allora adesso ci racconti un pochino questa tua scelta di vivere in camper perché questa il pollicino è la tua casa bella spaziosa quindi è ovvio che per viverci tutto l'anno 35 giorni 365 giorni all'anno su devi avere comunque un'abitabilità certo di comodità anche no perché quando ho scelto di venire a vivere sul camper a parte che è capitato un po' tutto così perché io volevo comprarmi un camper certo poi per una vicinistitura di pensieri di idee di valutazione che ho fatto avevo optato per comprare un camion con la patente C in modo che avesse più portata fosse un attimino più comodo guido il camion per lavoro quindi non ho problemi di guidare mezzi un po' più grossi e poi niente poi come ho sempre detto ho trovato questo ho trovato pollicino niente accade per caso nella vita no ed è stato diciamo amore proprio a prima vista nel senso mi è spiaciuto subito ho visto la grande abitabilità che ha questo mezzo qua che non allargandosi come i camper conosciuti europei con le slide con le slide dava comunque un'abitabilità meravigliosa il suo angolo soggiorno il suo angolo cucina la sua dinette la camera da letto il bagno e tutti gli accessori che ha perché comunque di spazio qui ce n'è me ne sono innamorato praticamente subito e di fatti l'ho comprato subito poi è bello è molto luminoso molto luminoso e quello è anche una cosa che mi è piaciuta le finestre piccoline come avevano certi camper si a viverci sempre infatti non mi piacevano chi sopra un po' di claustrofobia non è il massimo infatti la prima cosa che quando ho visto questo ho detto io ci vado a vivere sopra questo è la mia casa ho detto boh ho scelto di fare questo passo diciamo che non è stato facile dirlo agli amici ai parenti anche perché tutti quanti mi hanno detto ma tu sei matto cosa fai poi vai a fare il barbone sì perché c'è ancora questa vecchia credenza usare cioè se uno vive su un camper è un barbone invece no molti non capiscono che un camper del genere è una casa anche perché ha dei costi non indifferenti sì su quell'altro lì soprattutto costi di gestione di acquisto di gestione non sono indifferenti forse costa più di una casa alla fine perché comunque devi sempre stare dietro certo devi stargli dietro perché se no va in sfascia a un certo punto dopo sì tirarlo su non è facile non è facile tu devi sempre tenerlo al top perché se trascorre una cosa poi legato a quella ce n'è altre insomma va poi giù e il rischio di infiltrazione che poi dopo butti via tutto perché comunque devi smantellare tutto grazie al cielo qui infiltrazioni lo sappiamo bene con il nostro obelis lo sappiamo bene ho visto cosa è successo non vorrei arrivare ecco con tutto rispetto non vorrei arrivare a quei livelli la nostra fregatura è stata veramente grossa un pochino siamo stati noi ingenui però adesso ci stiamo facendo una bella esperienza piano piano ma poi il vostro camper verrà il montaggio totale il vostro camper verrà meraviglioso perché lo state studiando passo dopo passo materiale tutto quanto sarà ancora meglio del nuovo perché poi diciamo una cosa le cose fatte in casa sono sempre le migliori se io compro una torta al supermercato o me la faccio a casa uso ingredienti migliori e qui Marco ieri sera stesso mi spiegava ho comprato quel prodotto che è il migliore in assoluto costa un po' di più però avrò i miei risultati è fatto bene e difatti si vedrete che perché purtroppo quando fanno le cose così industrialmente in fabbrica eccetera tirano via i camper purtroppo sono fatti in catena di montaggio se quello che nasce bene è quello che nasce male i prodotti sono fatti molto a risparmio purtroppo sentendo altri camperisti anche i camper di fascia molto alta stanno dando dei problemi perché per guadagnare o per risparmiare sui materiali per tenere i costi usano materiali purtroppo molto scadenti non scadenti molto scadenti se nel vostro caso ve lo fate in casa usiamo il materiale è al top che poi non c'è tantissima differenza però dico il camper viene molto meglio e poi voi ve lo potete studiare perché l'avete praticamente un deserto e solo da costruire quindi ve lo fate proprio su misura come volete voi è vero ma anche qui tu te lo stai sistemando piano piano sta facendo delle migliorie ci ha già raccontato i suoi progetti futuri di idee ce ne sono tante di idee ce ne sono tante su rifare la tappezzeria gli armadietti cambiare di colore insomma ha tantissime belle idee che non svegliamo ancora tutto piano piano perché ci vorrà ancora tanto tempo per adesso sono solo idee e ci vorrà il suo tempo è anche solo bello questo di fare un pezzettino alla volta le migliori un poco alla volta diciamo che sono camper il mio il vostro che ci si può lavorare sopra sì perché comunque sono tutti materiali o tutte cose che si possono modificare non è plastica non è plastica è legno quindi si possono modificare se una portina si rompe non c'è problema un po' di colla una vite e tiene non come i caponi che sono plastiche che ce l'hai si svergola che faccio adesso certo cioè non è facile quindi sono ambienti dove si può lavorare bene puoi anche tirare fuori delle idee per lavorarci dentro quindi mi stavi dicendo che hai preso questa decisione di vivere in campo ma come mai ti è venuta questa idea perché è un'idea coraggiosa molto molto coraggiosa ma non tornare indietro molto bella anche non tornare indietro nonostante come dicevo prima che mi hanno dato il barbone poi dopo ascoltando la mia motivazione che poi è molto semplice tutti quanti hanno detto ma se la pensi così in effetti è giusto la mia motivazione è soltanto che io la casa non la uso io non usavo la casa ci dormivi e basta faccio la doccia dormivo mangiavo e dormivo non è che la vivevo io vivo da solo c'è mia figlia che viene a trovarmi ma la maggior parte della settimana sono da solo faccio il lavoro che mi porta via dal mattino alla sera ero in affitto e dico avessi avuto forse la casa di proprietà non l'avrei fatto ma essendo in affitto dico ma perché io devo già con l'affitto paghi un servizio e va bene butti via i soldi tanti dicono paghi un servizio però non sarà mai tua ho detto ma perché io devo fare tutte queste spese qua luce, gas, acqua spese condominali pulizia della caldaia cioè tutto ho detto sono degli obblighi poi che ti legano no? questa società che devi certo io ho visto assolutamente farli perché se non paghi quello ma io ho visto sono andato via l'anno scorso quasi un mese io quando sono arrivato il mese dopo mi sono trovato la bolletta del mese che era andato via consumo quasi pari a zero tasse 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 sono una bolletta quasi di 100 euro dico ma non sono stato in casa se qui non lo uso un mese non spendo niente non spendo niente non spendo niente e poi vai paghi il gas ti metti riempi ho finito se lo uso lo pago se non lo uso è lì non va male sono tutte cose che mi hanno fatto capire che la mia vita in casa non mi serve una casa di mattone a me serve un posto dove vivere comodo che sto bene poco da pulire che anche questo vuol dire che vuol dire perché avevo una casa di 90 metri quadrati due volte alle settimane togli la polvere pulire tutto è un impegno qua in 10 minuti in 10 minuti fai tutto i vetri c'hai tanti vetri quelli purtroppo sono da pulire solente però il resto fai molto veloce fai molto veloce ho bisogno di una casa pratica certo la praticità di una casa cioè entro mangio dormo mi lavo e poi vado a lavorare o vado a dormire e poi una cosa bellissima che un giorno una mattina ti alzi e dici oggi mi vado a fare un viaggetto giusto oggi vado in un altro posto vado in qualsiasi anche vicino certo c'è una sagra nel paese a 50 km come oggi a Cherasco oggi siamo a Cherasco io sono a casa ho la casa a Cherasco ho la casa a Cherasco siamo benissimo ci siamo incontrati panorama diverso nuove esperienze nuovi amici nuove amici perché comunque viaggiando sicuramente avrai conosciuto un sacco di persone un mare di persone un mare di persone io ho l'abitudine al fine settimana di spostarmi non sto lì certo dove sto alla base io la chiamo la base certo mi sposto una volta vado da una parte una volta vado dall'altra proprio per togliermi per rilassarmi io so che a fine settimana per due notti una notte io quando la finestra ho un panorama diverso può essere il mare può essere la montagna può essere un lago può essere una città ma ho questa possibilità a livello psicologico no mi rilassa tantissimo vuol dire staccare ed è la cosa la cosa più bella infatti non riesco più a farne a meno adesso io sto già pensando che probabilmente forse sabato prossimo non lavoro io parto già il venerdì sera sto già studiando qualche tira non distante ma anche solo 40 km 30 km qualche vallato qualcosa però ti cambia l'ambiente ti cambia il panorama cambia l'aria ti svegli apri ti fai colazione guardando fuori conosci persone nuove infatti camperisti che vengono a trovarti e ti dicono ma tanti io non che lo dico però dico ma quel camper ti fai amicizia di dove sei cosa fai tante volte mi invitano a mangiare con loro certo tante volte gli dico venite qua facciamo una pasta da noi mi sa che qui ci starà tanta gente mi dicevi prima che quanti eravate allora tempo fa abbiamo fatto un raduno di camper di cuneo si eravamo una quarantina di camper un'ottantina di persone a mangiare la porchetta che buona che era infatti sono tutti gli amici ciao ci vediamo a Natale e qui dentro sono stati dieci infatti sono entrati dentro lo fai vedere me lo fai vedere entrate solo tanto non è mi piace è inutile stare lì sono entrati a tutto il punto ma vi siete contati un attimo dieci siamo in dieci ci diamo fastidio no che meraviglia no cioè è veramente è molto aggregativo questo camper ci fa venire voglia di viverlo proprio di starci dentro calcherare mangiare insieme fare un camper qualsiasi cosa versi un buon vino qua in Piemonte il vino eh beh per arrivare a 30 km nelle Langhe è fantastico assolutamente diciamo che questo qui io non lo vedo più nemmeno come un camper questo non è un camper questa è una casa veramente una casa su ruote una casa che si può spostare questo modo di vivere a me piace mi piace proprio tanto nel senso che ok lavoro tutta la settimana anche quando vado a lavorare il mattino mi sveglio è come essere in vacanza perché scendo mi faccio il caffè ma sai che bello si è fantastico ti dà un senso di libertà che è la fine del mondo si sono proprio contento poi come avete visto ho tutto ci senti come dite eh ma sul camper non hai questo non hai quello io ho detto ma io sinceramente ho tutto hai tutto ciò che è dispensabile se io guardo quello che avevo in casa quello che ho sul camper praticamente ho tutto certo ho una cosa in più ho la casa dappertutto magari non avrai 50 paia di scarpe ma avrai mille altre cose non è una donna ho dovuto ridimensionare tutto ma come ho già detto anche in altri video quello che io avevo nella vecchia casa nella casa di mattoni erano tante tante cose inutili certo ma tante cose servizi di piatti mai utilizzati bicchieri flutti bicchieri da vino bicchieri d'acqua se venisse qualcuno ma chi deve venire se venivano i miei amici avevano i bicchieri nella nutella cioè in tutte le case è così ah ma deve avere se non sai il saluttino il soggiorno ma chi viene in casa credo che a un certo punto si comprenda quanto siano futili certe cose io ho buttato via un mare di loro in questo contesto in questo modo di scegliere la vita comprendi veramente cosa è veramente indispensabile cosa è veramente importante nella vita questo è molto è molto importante non sono tanto le cose materiali no io dico io se vi faccio vedere in un precedente video ho detto che avevo quattro bicchieri non è vero ne ho otto bicchieri di plastica allora in otto ci possiamo stare poi gli altri i bicchieri di plastica poi c'è una fila di bicchieri di plastica diciamo otto bicchieri mi corrego per il video precedente otto bicchieri di plastica quattro piatti di melanina cioè quattro piatti fondi quattro ciotole e quattro cinque padelle e sinceramente non uso tutto certo ma poi cos'è importante è importante il piatto è importante il cibo che c'è dentro la parte più importante è la compagnia e la compagnia perché io posso anche mangiare pane e salame dobbiamo provare come abbiamo visto oggi bellissimo il salame nella bistecchiera dobbiamo provare grazie preferisco mangiare veramente pane e salame con un'ottima compagnia che un'aragosta o un piatto da solo o con una compagnia che scusate ma mi sta lì sinceramente preferisco riempirmi un camper di gente che veramente mi vuole bene se ho bisogno di qualcosa la chiamo io ho trovato tantissime persone che ti aiutano se hai bisogno chiamami e io gli ho detto anche tu se hai bisogno ci diamo una mano qui stesso Marco io l'ho conosciuto mi ha detto guarda io ho questa cosa qua questa cosa qua te lo regalo ho cosa ho trovato veramente degli amici che si si è bellissimo mi si è aperto un mondo mi si è aperto veramente un mondo nonostante che dicono che i piemontesi sono tutti chiusi ma io ho trovato un mondo che si è aperto davanti sono le solite diciture il piemontese è chiuso all'estero è pericoloso andare in quel paese invece non è io ho girato parecchio io ho trovato sempre tante tante persone poi certo se ti infili in certi luoghi te la vai a cercare no devi essere sempre un pochino con la testa sulle spalle con un po' di intelligenza però ho sempre trovato dappertutto gente disponibile hai bisogno gente che si ferma in mezzo alla strada hai bisogno ti aiuto ti do quello che posso gente che ti dico mai vista mai conosciuta che mi invitano a pranzo bellissimo perché secondo me dipende anche come ti poni tu davanti sicuramente io sono molto introverso come dico sempre non credo lui non è introverso io ti dico un aneddoto che mi è capitato due settimane fa ero in un'area di sosta che ho passato io ero da solo ho detto voglio andare là così mi rilascio tranquillo certo c'era una ho visto una bambina ma avrà avuto tre anni due anni tre anni correre verso il camper e è salito sopra non problema poi il papà è iniziato ad arrivare camminare mi fa mi scusi mi scusi nessun problema sono salito sopra abbiamo fatto quattro parole gli ho dato non mi ricordo i biscotti i biscotti farciti per il bambino gli ho dato due o tre le ho mangiate lì poi si è messo a giocherellare poi dopo di che ciao ciao sono tornati allora non aveva neanche il camper allora non aveva fare picnic con la macchina tranquilli io mi sono messo lì fuori tranquillo stavo giocherellando col cellulare a un certo punto arriva lui con un piatto con la carne pieno così di carne alla braccia ma dai ma che bello ma guarda abbiamo pensato che ti facesse piacere io l'ho guardato e gli ho detto facciamo una cosa aspetta a me ho preso due bere dal frigo e sono andato da loro certo bellissimo ho mangiato da loro mai visti mai conosciuti lui è ucraino no lei la moglie è ucraina e lui è moldavo si no parlavano benissimo l'italiano col bambino insomma posso dirti io ho passato un'ora un'ora e mezza due ore con loro ci siamo raccontati un po' la storia loro mi hanno raccontato la loro storia lei è ucraina quindi mi hanno raccontato un po' un po' di cose di quello che sta succedendo io ho passato due ore meravigliose bellissima ma sono stato bene mi hanno fatto da mangiare ho mangiato come non so che cosa io ho portato la birra abbiamo bevuto abbiamo mangiato abbiamo passato due ore spensierate con gente che non avevi mai visto non li conosco non avevo mai visto cose che arricchiscono la vita che danno il senso alla vita perché altrimenti che cosa fai ti alzi al mattino in una casa chiusa dentro e non hai nessun rapporto o comunque proprio pochi vai al lavoro ti stressi torni a casa cosa fai mangi vai a letto e la vita è tutta qua perché ti devi comprare perché devi pagare le bollette devi pagare questo devi pagare la rata devi pagare il mutuo tutte queste cose mi rendo sempre più conto che questo cioè tutti questi pagamenti queste costrizioni perché sono delle costrizioni ti legano ti legano la vita e ti tolgono esatto ti tolgono il più bello della vita che è il senso di libertà il senso di fare quello che ti piace il senso di purtroppo noi dobbiamo di appartenenza lavorare per vivere ma purtroppo siamo arrivati che stiamo vivendo per lavorare purtroppo è quello io sto cercando un attimino di uscire da questo da questo cerchio da questo limite che dici non devo lavorare non devo vivere per lavorare io devo lavorare per vivere ma la vita non deve essere deve essere altro devo fare qualcosa che mi piace devo stare con gente che mi piace anche se non la conosco devo stare con in un posto che mi piace se non mi piace il posto metto in moto e mi sposto e te ne vai anche solo di 50 metri e mi sposto è uguale tanto la tua casa te la porti dietro sono da per tutto sono un po' come una lumaca tutto il mondo è casa per lui in questo senso come scritto dietro nello stampino dove parcheggio sono a casa esatto tu sei a casa ovunque poi qui dentro si sente proprio questa bella energia di positività di di giovialità di di amicizia questo mi fa molto piacere perché è dove voglio arrivare io assolutamente voglio arrivare che il camper è casa però sia anche energia nel senso che chi entra qua si sente sempre il benvenuto si sente a casa sua cioè se hai bisogno di un bicchiere d'acqua vieni non dici ah mia amica vai ti alzi e te lo prendi cioè è questa la vita che deve essere secondo me è questa la vita poi mi sbaglierò non lo so questo però io da quando ho iniziato a vivere così stai rivivendo sto bene e poi ci chiediamo perché siamo tutti malati perché siamo tutti arrabbiati stiamo tirando fuori il peggio di noi tutti sempre rabbiosi che siamo sempre pronti a giudicare tutto ciò che fanno gli altri perché secondo noi dovrebbe essere tutto giusto quello che facciamo noi invece non è così il mondo è vario pieno di ognuno ha il diritto di vivere come vuole non si deve giudicare gli altri perché ognuno ha la sua motivazione vivi, lascia vivere rispetta tratta gli altri come vorresti essere trattato te uno ci prova almeno poi magari sbaglia per l'amore del cielo però se parti già con quel presupposto lì sbagli anche in quel momento lì però vivi meglio vivi meglio tratti con l'educazione cerchi di essere un po' dico sempre vedere gli altri sempre col sorriso nel senso avvicinarti col sorriso apre tutte le porte del mondo perché io quando vado una persona guarda la mia situazione è questa non riesce a dirti di no perché la gente è fatta così io dove sono andato che sono entrato col sorriso una battuta scherzosa un complimento cosa la gente è vero anche noto che quando tu sei sorridente aperto cordiale anche le persone più chiuse più introverse un pochino piano piano si aprono perché non non puoi cioè se non rispondi a un sorriso amorevole a questa giovialità sei proprio una persona brutta cattiva ti chiedo scusa che non sono riuscita ad educare la mosca purtroppo purtroppo è un po' maleducata non al guinzaio questo è un po' imbambita adesso perché col freddo cominciano eh ma arrivano arrivano sentono il calduccio allora arrivano comunque niente questo è la mia casa come vi ho detto prima e Pollicino l'abbiamo chiamato così l'ha chiamato mia figlia così è benissimo Pollicino ha tutta una storia è il suo nome infatti mia figlia fa eh Pollicino la chiamiamo Pollicino gli ho detto guarda va benissimo va benissimo è perfetto va benissimo infatti l'abbiamo anche scritto fuori perché ve lo dico eh quando l'ho preso sembrava un camion trasporto a cavalli perché era fuori era praticamente senza uno stampino senza niente non poteva essere così infatti ho detto no devo fare qualcosa e allora gli ho scritto my name is Pollicino si capisce che è un camper si infatti ma più che un camper sta diventando una realtà eh bello perché inizio a conoscere in tanti ogni tanto tu sei tu sei tu sei è bello anche questo che non è tanto per però questo senso di appartenenza sì al al mondo umano insomma di tante persone che dovrebbero vivere più più uniti più che altro con rispetto verso gli altri dopo di che tutto succede il rispetto è alla base di tutto assolutamente il sorriso se uno come dicevo prima se uno si affronta va vicino sorride e anche l'altro sorride boh siamo già d'accordo basta siamo già d'accordo e se il mondo fosse così si vivrebbe tutti meglio ma purtroppo però non è così poi soprattutto ultimamente eh purtroppo no però siamo sempre meno uniti però noi siamo stoici noi teniamo duro e noi teniamo duro e cerchiamo sempre di unire è vero è vero questo è importante senti ma cosa cosa ti senti di dire ai nostri amici ma eh quello che mi sento di dire è come ho già detto anche nell'altra intervista che mi ha fatto un mio caro amico e se avete dei sogni cercate di realizzarli il più presto possibile perché il tempo passa certo qualsiasi sogno adesso sì andare a ballare vuole fare un corso di danza o un corso di pittura qualsiasi cosa andare a fare un viaggio non rimandate fatelo perché tanto i soldi vanno e vengono se li spendi in un viaggio poi ritornano però quello che non ritorna è il tempo non ritorna i rimpianti avere rimpianti infatti che poi rimpianti dai per le cose che non hai fatto non per quelle che hai fatto è certo questo è quello che mi hanno insegnato perché quando avrei potuto farlo non l'hai fatto non l'hai fatto è la cosa peggiore è la cosa peggiore è la cosa peggiore quello sicuramente e poi usate i camper usate i camper che è una bella vita si sta bene e ne vale la pena veramente 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 sì senti noi ti ringraziamo io ringrazio voi ma figura perché siete due persone meravigliose Obelix poi mi piace tantissimo piano piano lo state costruendo ed è una cosa meravigliosa quella speriamo di vederlo presto montato così andiamo a farci un bel giro insieme quello sicuro quello sicuro dai e va bene così alla prossima e tanto adesso voi credete che non ci vediamo ma adesso noi chiudiamo e andiamo a farci un giro un giro a Kerasco perché ci sono tutti i mercatini tutti i mercatini c'è il museo della magia che devo andare a visitare perché se no qualcuno mia figlia mi uccide mi uccide e venite a vedere Kerasco anche questo lo dico perché siamo qua lo dico perché è proprio un bel paese veramente io non l'ho mai sono sempre venuto a Kerasco per i mercatini che fanno un mare di mercatini sì è vero però li fanno proprio belli sono proprio ricchi di gente ricchi di prodotti e poi le persone a Kerasco sono veramente tutte molto cardinali sì sì infatti ringraziamo anche il municipio di Kerasco che dà quest'area gratuita per il parcheggio con carico carico e gratis carico e scarico e gratis si paga un pochettino la corrente elettrica ma mi sembra anche giusto e vi dico è praticamente in centro paese perché l'entrata del centro storico cosa sono? 200 metri? ma neanche neanche 200 metri e vi dico si sta veramente bene e Kerasco è un po' anche al centro di tanti altri paesini che ci sono qua ne vale veramente la pena di fare una visita perché è veramente un bel paese noi siamo innamorati noi ci veniamo un po' di volte col camper assolutamente tanta gente che dice parlate solo di camera no adesso Marco vi farà anche qualche ripresa se non l'ha già fatta del paese ha mai dei video precedenti loro andate a vedere che sono molto molto belli ci sono tanti video di Kerasco e di questa zona qua andate a vedere che scoprirete un paese veramente molto molto bello molto molto valido assolutamente sì andiamo a passeggio andiamo a passeggio andiamo a passeggio ciao a tutti ciao a tutti al museo della magia borsa ammazza vampiri nuovo gigante del Madagascar i tarocchi il libro dei morti Samuel il ventriloquo marionetta per ventriloquo bella grossa questo è un ascensore perché sales e scendes di il tuo nome dì il tuo nome dai più coraggio no mi chiamo Carlo Maria no due veloci la magia la magia abbia inizio buona attenzione 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 ma qui ci sei tu no io non inizio così come sto bellissimo la testa parlante ma è scelta ma è scelta ma è scelta per approccio i sentieri del mondo per radegrare con le mie magie intera generazione di faccione e per capire gli soldati dei più grandi di bagli della terra con questo patrimonio e con l'aiuto di esperti per i figliatori e artisti dell'ospedale la foresta incantata i tre anelli di Silvan gli anelli cinesi e qui tutte le scatole dove venivano tagliate le persone salutare devi aprire la bocca G di Nini no sputa il rosco ma cos'è ma 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 ho capito si va me la cosa c'entra Fedez sono una dj ma cosa c'entra che sia una dj ho suonato dove hai suonato ho nato di chi di ragnes ma non dire voglio dai saluto piuttosto musica un bacino dove lo vuoi il bacio nell'orecchia come nell'orecchia facciamo sulla guancia va bene g ok ok tu ti metti da questa parte quando vuoi claudio vai piano piano un bacio sulla guancia di g quando vuoi vai 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 claudio devi andare un po' più piano ma non perchè lei è timida eh già si si la timida è quando vuoi vai 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 scusate Claudio allora facciamo così devi stare ferma guarda le mano wow 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 avete visto? basta schioccare le dita giri le mani ferme mettere le mani ferme salta voi eh come? niente aumenta il giro e la mia come c'è? eh come c'è? eh ti stai muovendo? io no che stavo la tengo ferma devi stare ferma hai capito? oh yeah tutto bene G? no cosa c'è? il collo vai il collo mai stringere il collo va meglio? ora si mai stringere il collo delle giri si ok un bacio va bene quando vuoi tu Claudio vai vai lentamente vai no vai un applauso a Claudio un applauso ma scusa Claudio è la tua voce si si ok si saluta ciao un po' più sensuale vai ciao ok si ok sei pronto Claudio? no no scusa Claudio no è così con la testa da destra a sinistra eh uno due tre vai si sei un po' confuso eh Claudio hai bisogno di qualche cosa dimmi l'orecchio di chi? aspetta Claudio aspetta aspetta Claudio aspetta Claudio allora ok concentrati guarda avanti mano sul cuore mano sul cuore quando schiacci la mano tu ami la mano così anche la bocca facciamo bello cos'è che facciamo G? ma che schifo cosa hai mangiato a pranzo? acciughe acciughe vabbè si sente ma che la bagno a cauda? ma che la bagno a cauda? guarda avanti guarda avanti guarda avanti cosa mi dà avanti cosa c'è? beh vai 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 uno due tre vai ah ma devi aprire solo la bocca solo la bocca apri la mano eh sì vai uno due tre vai ah di più di più perché non si sente vai uno due tre vai ah si se va la porta che sta a prendere la porta vai più deciso vai uno due tre vai al mio tre guarda avanti uno due tre vai ah si ok va bene però deve essere proprio più potente come il paparone abbiamo tre uno concentriamoci al momento più importante dello spettacolo uno due tre vai un applauso a Claudio una applauso a Claudio grazie Claudio simpaticissimo allora siamo qui questo tavolino spiritico perché dopo essere usciti dal museo della magia praticamente non riusciamo ad aprire questa semplice cassettina dove ci sono anche le istruzioni per come aprirlo con 50 dollari dentro ci riusciremo non ci riusciremo non è che non ce l'abbiamo messa vere buongiorno dal giorno dopo oggi non c'è rimasto più nessuno salvo noi noi e le giostre quindi andiamo a fare colazione oggi giornata grigia ma si sta comunque bene però siamo stati fortunati perché ha piovuto fino a un quarto d'ora che va chiusissimo la porta di Kerasco è sempre affascinante particolare bella qui a Kerasco la cosa carina è che ci sono i portici non ovunque in certi punti ci sono sia qui che anche dall'altra parte colazione andiamo a farla qui in piazza caduta della libertà a mille voglie caffetteria siamo convenuti qua questi giorni siamo sempre stati bene le signore sono gentilissime qua praticamente vai verso l'altra porta quindi da una porta all'altra dritti dritti si arriva all'altra porta e la cosa bella almeno che a noi piace che qua almeno durante la settimana è proprio tranquillo tranquillo puoi fare delle belle passeggiate da una porta all'altra ma poi anche in giro per le viuzze da una porta all'altra passeggi da una porta all'altra ma anche per le viuzze è carino perché poi vabbè ci sono alcune case un po' più caratteristiche poi magari ci sono delle chiese campanili la chiesa è piena la chiesa c'è quante ne volete quante ne volete una più bella dell'altra questa è l'altra porta carino questo vialetto che porta la chiesetta autunnale bella là c'è un'altra chiesa grossa qui dalla piazza è accaduto della libertà quindi dove c'è il grosso campanile se si gira a destra in questa viuzza carina dove ci sono anche i portici se si va dritti dritti si arriva a si arriva a facciamo una passeggiata sotto i portici lo scopriremo passeggiando passeggiando sotto i portici si esce dai portici e si prosegue sul marciapiede e si arriva al museo della magia se avete dei bimbi è simpaticissimo vederlo ma anche dei ragazzi più grandi ma anche per gli adulti è comunque carino e tra l'altro se si arriva in determinati orari però bisogna chiedere di volta in volta ci sono anche degli spettacoli molto belli che vanno bene anche per gli adulti museo della magia di Cherasco per chi fosse interessato il costo è 10 euro e 7 euro i ragazzi dai 4 ai 10 anni invece proseguendo sulla stessa via in realtà abbiamo per caso scoperto la sera sabato sera siamo andati a mangiare fuori insieme a Claudio e sua figlia i nostri amici di Pollicino siamo andati abbiamo prenotato in questa pizzeria che si chiama Vecchia Italia che appunto è proprio a 50 metri dal museo della magia e niente abbiamo mangiato una pizza strepitosa e sono tutti simpatici e accoglienti quindi se capitate da queste parti sicuramente un buon posto dove mangiare una buona pizza è pizzeria Vecchia Italia ecco qua i portici dall'altra parte invece quando vogliamo un po' di buona focaccia veniamo qui sapore di pane forno a legna poco prima della porta principale adesso è chiuso faccia dare buona focaccia la pace è per il mondo quello che è che il lievito è per il pane carina praticamente da qui dalla porta principale girando a destra subito laggiù a 100 metri laggiù a 100 metri sulla sinistra c'è l'area di sosta veramente comoda ciao siamo arrivati all'ultimo giorno di Terasco oggi si ritorna però il 16 novembre e colazione da facciare fuori colazione di 10 e mezzo e col giacone però finalmente un po' di sole si è vero e si sta bene tra l'altro ieri sera siamo di nuovo andati a mangiare la pizza alla vecchia Italia si abbiamo mangiato di nuovo bene veramente bene e tra l'altro siamo andati non da soli questa volta ma con degli amici che abbiamo conosciuto casualmente casualmente proprio per caso camperisti ovviamente camperisti si che salutiamo tanto sono Patrizia e Enrico e Laura e Andrea è stato veramente un piacere passare una serata insieme e grazie bello bello grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.